Bentornati, in questo video di oggi vedremo un paio di strutture dati che non abbiamo ancora affrontato prima e ci serviranno come base per riuscire meglio a comprendere quella che è l'ultimo argomento algoritmico del corso delle tanto citate simulazioni ed eventi che affronteremo dalla prossima lezione in avanti. Oggi, come dicevo, completiamo la nostra conoscenza di alcune strutture dati che poi saranno la base del meccanismo di funzionamento delle simulazioni e ci permetteranno anche di capire qualche cosa in più in termini di efficienza di alcuni algoritmi sui grafi. Ecco, la prima struttura dati che vi racconto sono gli alberi. In realtà gli alberi noi già li conosciamo, vi abbiamo già dato più volte la definizione, un albero è un grafo aciclico connesso, è un sotto insieme di un grafo che quindi emerge normalmente nella teoria dei grafi. In realtà noi lo vedremo da un punto di vista diverso, quindi rovesciamo un pochino la definizione di albero per cercare di cogliere la sua utilità come struttura dati. Quindi in pratica non ci interessa più pensare a un albero come un tipo di grafo, come diciamo così l'albero diviso all'interno di dati che siano per loro natura espressi a grafo, ma usiamo l'albero semplicemente come trucco di programmazione per riuscire ad avere una struttura dati efficiente. Quindi usare una struttura dati che sia gerarchica e non lineare per rappresentare delle informazioni. Poi ovviamente quando pensiamo ad albero organizzato in questo modo non è come un grafo in cui la radice è libera ma la radice sarà un nodo ben preciso che sarà l'inizio diciamo così della rappresentazione della struttura dati. In pratica quello che cerchiamo di fare è di sfruttare il fatto che un albero, essendo sotto insieme di un grafo, ha una struttura non lineare quindi ramificata e questo ci può permettere magari di ottimizzare alcuni algoritmi. Scopriremo ad esempio che rispetto a una struttura lineare come può essere una lista, come può essere un array, quindi sia un array list che una link in lista, avere un albero ci permette di velocizzare ad esempio l'operazione di ricerca o di inserimento di elementi se li vogliamo mantenere ordinati. Quindi immaginiamo di avere una serie di numeri. Se li vogliamo mantenere ordinati possiamo metterli in un array ordinato, in una lista ordinata oppure in un albero che in qualche modo li rappresenta ordinati. Una sequenza di numeri di per sé non è un grafo, non si presta ad essere rappresentato come grafo perché non ho le relazioni tra questi numeri. Però quindi di fatto non stiamo rappresentando dei dati da cui natura siano grafi, stiamo rappresentando dei dati da cui natura siano sequenze normali ma rappresentiamo con una struttura dati che internamente è un pochino più complicata ma è più efficiente. È più efficiente perché internamente sfrutta la gerarchia per velocizzare le operazioni. L'operazione di inserimento e di ricerca ovviamente dell'informazione all'interno dei nodi. Strutture dati di questo genere in informatica si trovano ovunque. Noi dalla prima lezione del corso abbiamo già visto che le classi della libreria GFX sono organizzate ad albero ma così come in qualunque organigramma le posizioni di potere, le posizioni di governo sono organizzate ad albero. Questo proprio per la natura aciclica di questi alberi, di queste strutture dati in cui siamo sicuri che non ci siano mai dei cicli infiniti o dei cicli di controllo. Ecco questi due tipi di alberi che abbiamo visto tendenzialmente sono alberi orientati, cioè abbiamo ben preciso un nodo radice da cui tutto riparte così come qui abbiamo un vertice da cui tutto riparte essenzialmente. Quindi molto spesso questi alberi li concepiamo sempre orientati con una radice ben precisa. Ovviamente dal punto di vista della rappresentazione un albero non è altro che un sotto insieme di un grafo, quindi parliamo di nodi collegati da archi e questi archi sono come dicevamo quasi sempre orientati dall'alto verso il basso, dall'arice verso le foglie, così le chiamiamo, e quindi gli unici cammini che sono possibili all'interno di questo grafo sono i cammini che vanno dall'alto verso il basso, dall'arice verso le foglie, non ci sono cammini trasversali o cicli o altri tipi di cammini. A livello di terminologia, giusto per chiamare, possiamo avere una terminologia di tipo botanico in cui parliamo di nodo radice che è quello più in alto, il nodo foglia che sono i nodi terminali, di rami, quindi parti del grafo che sono tra le radice e le foglie le possiamo chiamare rami con questo ramo e ovviamente poi ci sono gli archi e i cammini che sono sequenze di archi. Questa è la terminologia diciamo così più botanica ma a volte possiamo anche usare una terminologia un pochino più generologica in cui parliamo di nodo padre, nodo figlio, l'ascendente e il discendente di un determinato nodo e possiamo anche parlare di nodi fratelli, cioè gli altri nodi che sono figli dello stesso padre, oppure foglie dello stesso ramo in un certo senso, ma quindi sono un pochino intercambiabili queste due terminologie. Noi sappiamo già dai grafici cosa significa visitare una struttura dati e quindi anche nel caso del grafo visitare un albero, anche dell'albero, visitare un albero significa toccare tutti i vertici, in questo caso non abbiamo problemi di cicli e quindi non abbiamo il rischio di trovare due volte il stesso vertice, non abbiamo problemi di connettività perché per definizione un albero è una struttura dati connessa. Quindi effettivamente si tratta di partire da radice e toccare tutti i nodi e fare una certa operazione per ciascuno dei nodi. Cioè mentre nel grafo molto spesso è importante scoprire quali sono i vertici raggiungibili da un vertice dato, qui è un'informazione che già abbiamo perché sono tutti raggiungibili da radice e quindi magari lo visitiamo per poter fare un qualche tipo di operazione sui vertici stessi attraverso un meccanismo appunto di attraversamento, qualche algoritmo di attraversamento. Avendo definita una radice possiamo generalizzare il concetto di visita di ampiezza e possiamo attribuire a ciascun vertice un concetto di livello che non è altro che la distanza rispetto al nodo radice. Cioè noi il livello l'abbiamo già definito in termini di distanza della sorgente in una visita in ampiezza. Qui lo particolarizziamo dicendo che la sorgente ovviamente della visita ovviamente sarà la radice e quindi il livello è la distanza della radice. Non sto parlando di distanza minima della radice perché qui in assenza di cicli la distanza è univoca, c'è un cammino solo, quindi non ho problemi di confusione, di ambiguità. Quindi qui tutto è chiaramente molto più semplice. E se vogliamo il livello massimo di un albero prende il nome di altezza dell'albero stesso, quindi la distanza massima tra la radice e la foglia più lontana dell'albero stesso, in termini di, diciamo così, terminologia di base. Questa struttura dati in particolare risulta particolarmente utile nel caso degli alberi di tipo binario. Un albero binario è un albero, quindi quello abbiamo visto finora, che è in cui ciascun nodo abbia al massimo due figli, al massimo due. Quindi il fattore di branching, il fattore di moltiplicazione da un nodo ai vertici sottostanti può essere zero, cioè quel nodo è una foglia, uno, cioè quel nodo ha un figlio solo, oppure normalmente due, cioè un determinato nodo ha due vertici. E spesso questi due vertici, visto che sono solamente due, li chiamiamo figlio sinistro e figlio destro. O ramo sinistro e ramo destro, a seconda di qual tipo di terminologia vogliamo adottare, o sotto albero sinistro e sotto albero destro, se traduciamo sub3 in questo modo. Tanto per distinguere i due vertici, i due figli. Quindi in un albero in generale, quando abbiamo quattro figli, non diamo un nome specifico a questi quattro figli e neppure un ordine specifico. Quando ne abbiamo solo due, invece, conviene distinguere sinistro dal destro. E questo è un esempio di un albero binario, in cui vedete che ogni nodo attende a avere due figli, tranne alcuni che invece hanno un figlio solo. Ovviamente un determinato insieme di elementi può essere disposto ad albero in un modo arbitrario, in molti modi diversi. Tendenzialmente vedremo che molti algoritmi hanno una complessità che dipende dall'altezza del grafo e quindi si cerca quasi sempre di avere degli alberi che siano il meno alti possibili. Quindi abbiano il numero minimo possibile di livelli nella loro articolazione. Per avere il numero minimo di livelli è necessario che gli alberi sinistri e gli alberi destri, lato sinistro e lato destro, abbiano grossomodo lo stesso numero di elementi. Perché se io metto tutti gli elementi sempre sul lato sinistro, avrò un albero che è totalmente sbilanciato da un lato. Se invece metto gli elementi un po' a sinistra e un po' a destra, allora l'albero alla fine sarà bilanciato. Allora qui diamo una definizione possibile di alberi bilanciati, sono quelli in cui per ciascun nodo l'altezza del sottoalbero sinistro e l'altezza del sottoalbero destro definiscono al massimo di un'unità. Non posso sempre imporre che siano identiche, ma questa differenza sarà al massimo 1. Ad esempio, se io prendo questo albero, partendo dal nodo 50, nel ramo sinistro ho un'altezza pari a 1, 2, 3 livelli. Nel ramo destro ho un'altezza pari a 1, 2, 3 livelli. Quindi da questo punto di vista il test ha esito positivo. Partendo da 72, a sinistra vedo due livelli, a destra vedo un livello solo perché mi fermo qua. La differenza è uno solo. Va bene. Prendendo il 54, a sinistra vedo 0 livelli, a destra vedo un livello e anche qua la differenza è pari a 1. Quindi questo albero è un albero che viene detto appunto bilanciato e quindi il numero di livelli mi determina il numero di nodi che posso inserire. Quindi se devo inserire un nuovo nodo cercherò di inserirlo in questo buco, oppure in uno dei due figli del 76, possibilmente, per riuscire a riempire il posto che esiste nei livelli che ho già creato, piuttosto di dover creare un nuovo livello nel grafo, perché me lo sbilancierebbe ulteriormente. Io non potrei aggiungere un altro livello qua, perché io avrei sul lato del 76 una profondità solo pari a 3 e qui avrei una profondità pari a 5. Ci sono poi delle casistiche particolari in cui questo albero binario non solo è bilanciato, ma come si dice anche completo, in cui tutti i livelli sono esattamente pieni, tranne eventualmente l'ultimo perché mancano degli elementi. Quindi in qualche modo è il limite a cui tende un albero bilanciato quando il bilanciamento è spinto il più possibile e quindi ho tutti i livelli pieni, quindi sono perfettamente bilanciati, tranne eventualmente l'ultimo, anche questo che mi dà la differenza di più o meno uno, ma nell'ultimo livello sono tutti, diciamo così, addossati, come si dice qua, verso la sinistra, in modo da poter riempire in modo ordinato. Questo tipo di rappresentazione è un albero binario, completo, si presta molto bene a essere ottimizzato perché io so esattamente dirti dove memorizzare i singoli elementi. Cioè è un albero ma si può semplicemente memorizzare all'interno di un vettore perché so esattamente qual è l'ordine di riempimento. Un po' come quando facevamo il giochino del quadrato magico in cui il quadrato era una struttura bidimensionale, ma avendo io definito priori in che ordine riempirlo, gli elementi li rappresentavo semplicemente come una sequenza, come una lista. E qui anche la lista può essere A seguito da BC, seguito da DE, seguito da FG e così via. E quindi se dico che è il settimo elemento sarà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi il settimo elemento vuol dire che è il figlio destro del figlio destro della radice. Per forza. Se è tutto pieno basta contare gli elementi e so esattamente in che posizione si trova nell'albero e quindi dal punto di vista della struttura dati mi conviene perché non devo rappresentare tutti gli archi veramente, li lascio sottintesi, ma dal punto di vista algoritmico penso, ragiono come se ci fossero. Vedremo poi quali vantaggi porta. Ovviamente c'è anche il versante totalmente opposto di alberi che sono totalmente sbilanciati. Abbiamo un albero di questo genere che contiene 7 elementi, questi 7 elementi sono alla fine disposti in un albero di genere perché i figli sinistri non ci sono mai e quindi gli elementi sono sempre messi nei figli destri e questo crea un numero di livelli sproporzionato, cioè esattamente appare al numero di elementi e vedremo la complessità degli algoritmi di fatto ne risente abbastanza. Per questo la maggior parte degli algoritmi cerca di lavorare con alberi che siano sempre il più possibile bilanciati, altrimenti non vale la pena, altrimenti a questo punto uso una lista per avere una struttura lineare e non ramificata. Parlo di algoritmi sui grafi e alla fine gli algoritmi principalmente sono quelli di visita, adesso qua non entro in dettagli, dove essenzialmente si visita un grafo e durante la visita si fa qualche elaborazione al nodo. Allora queste elaborazioni potremmo decidere di farle prima, durante o dopo l'attraversamento del grafo stesso, quindi immaginatevelo in una procedura ricorsiva che attraversa il grafo, io l'operazione di stampa la posso fare prima di fare la ricorsione, dopo che ho finito la ricorsione oppure dentro il ciclo che costituisce la ricorsione stessa. A seconda ovviamente di dove metto questa operazione alla fine avrò comunque stampato tutti i vertici ma in un ordine diverso, magari stampando prima quelli dall'alto oppure stampando quelli dal basso e così via. E ovviamente il tipo di visita che faccio può essere utile in algoritmi di tipo diverso. Ma come vi dicevo non vogliamo entrare nei dettagli di queste strutture di dati ma solamente un po' capire il loro utilizzo e un utilizzo possibile è quello di usare gli alberi binari per operazioni di ricerca. Questa sigla strana BST sta all'apprezzazione di Binary Source Tree, quindi un albero di ricerca binario. Cioè usiamo quello che brevemente, rapidamente abbiamo accennato sugli alberi per costruire una struttura di dati che ci serve per fare la ricerca, delle ricerche, ricerche in un insieme ordinato di informazioni. Allora che cos'è un BST? Un BST è un albero binario in cui ciascun nodo, ovviamente ha due figli, e i figli hanno questa proprietà. Ciascun nodo deve avere questa proprietà. Dato un nodo tutti gli elementi che sono discendenti dal sottoalbero sinistro, quindi seguendo il ramo sinistro, devono avere tutti un valore che è minore del nodo di partenza. E tutti gli elementi del sottoramo di destra devono avere dei valori che siano maggiori del nodo centrale, della radice. E questa proprietà, il terzo punto, dice che questa proprietà si deve applicare ricorsivamente anche ai nodi inferiori. Quindi 55, tutti gli elementi che sono alla sinistra del 55 devono essere minori di 55 stesso, meno 3, 29, 42 lo sono, ma anche ricorsivamente tutti gli elementi che sono a sinistra del 29 devono essere minori di 29 e quelli che sono a destra del 29 devono essere maggiori di 29. E ovviamente saranno maggiori di 29 ma minori di 55 perché stanno anche nel ramo sinistro del 55. Quindi questa regola molto semplice che però si propaga dall'alto verso il basso. Questa è la semplice definizione di un albero binario, quindi a due rami, di ricerca perché c'è questa condizione di ordinamento. Quindi mantiene degli elementi e all'interno dei tre livelli sono riuscito a memorizzare sei elementi e questi elementi sono in qualche modo ordinati. Non sono ordinati da sinistra verso destra, non necessariamente, però hanno un ordine che permette di ricercare. Questo criterio di ordinamento permette l'esecuzione di algoritmi di ricerca o di inserimento molto efficienti che lavorano di fatto con una complessità che vedremo è logaritmica nel numero di elementi. Perché è logaritmica nel numero di elementi? Perché è proporzionale al numero di livelli dell'albero. Facciamo solo qualche esempio prima di scendere sulla complessità degli algoritmi. Ad esempio questo albero è un BST? Beh direi di no perché, anzi esattamente quello che lo trovo è un BST perché qui ho meno 5, alla sua sinistra ho meno 1 che non è minore di meno 5, è maggiore, e alla sua destra ho meno 7 che non è maggiore di meno 5 perché è minore. Quindi questo sicuramente non è un BST. Questo può essere un BSD? Un nodo isolato? Sì, sì perché tutti gli elementi che sono sul ramo sinistro, cioè nessuno, l'insieme vuoto, sono minori di 42 perché non c'è nessuno che non lo sia, nessuno che violi questa condizione e così via il ramo destro. Quindi queste condizioni qua di essere minori o maggiori del nodo superiore ovviamente si applicano se il figlio sinistro e il figlio destro esistono. Se invece non esistono la condizione è automaticamente verificata. Quindi la mancanza di un figlio non è un problema. Ovviamente l'albero binario abbiamo detto che ha al massimo due figli ciascun nodo, non deve necessariamente averne due. Vediamo un altro esempio, vediamo questo qua, cosa dice? 7.2, a sinistra 1.9 che è minore di 7.2 quindi sono a posto. A destra ho 9.6, 8.1, 21, sono tutti maggiori di 7.2? Sì, benissimo. Verifico ancora però la proprietà di questo nodo, 9.6, a sinistra ho 8.1 che è minore e a destra ho 21.3 che è maggiore di 9.6 e quindi sono a posto. Quindi questo è un BST legale. Ma abbiamo visto memorizzare i numeri interi, abbiamo visto memorizzare i numeri reali ma possiamo anche memorizzare dei testi ad esempio. Allora pensiamo all'ordine alfabetico, qui ho un M, a sinistra devo avere tutte parole o lettere che sono lessicograficamente, alfabeticamente, minore di M. Quindi O, G, B, E, va bene. A destra devo avere tutte cose che sono maggiori di M. Q, S, K no. Ecco, K non è maggiore di M. Quindi questo è un problema. Quindi pur essendo K minore di Q, quindi se guarda solamente il nodo Q, lui è tranquillo perché K viene prima e X viene dopo, però K che sta in qualche modo sul ramo destro di M non è minore di M e quindi questo K viola la condizione di ricerca. Infatti per colpa di questo nodo questo albero non è BST. L'altro sinistro lo sarebbe perché G è minore di M, B è minore di G e E è maggiore di B ma minore di G e quindi è giusto che stia sul ramo destro, come figlio destro del figlio sinistro di G. È stato un po' di abituare l'occhio a visitare queste strutture dati ma per il resto. Questo tra l'altro sarebbe un albero binario non bilanciato. Ecco, il fatto di essere un albero di ricerca non dice nulla sul suo bilanciamento perché come vedete che il G ha come figlio sinistro due livelli e come figlio destro zero livelli, quindi la differenza dei livelli tra i due rami è di 2 e non di 1, quindi questo si vede anche se vogliamo a occhio che non è bilanciato perché ci sono tanti spazi vuoti, ma il problema vero è che non è ordinato nel modo corretto. Quindi cosa serve questa proprietà? Ma serve per velocizzare di molto la ricerca. Ad esempio prendiamo questo BST, ci dicono che è un verificarlo e ci dicono cerca il valore 31. Allora io vado a vedere la radice e mi chiedo tu radice sei il numero 31? No, ovviamente perché è il numero 18. Ma allora se la radice è il 18 e io cerco il 31, dove lo troverò il 31? Tra i figli sinistri o tra i figli destri? Beh ovviamente tra i figli destri, perché essendo 31 maggiore di 18 e essendo tutti i figli destri di 18 maggiore di 18 ma soprattutto quelli sinistri sono minori di 18, il 31 se c'è è a destra e quindi da qua mi sposto qua. A questo punto faccio la stessa cosa, tu caro nodo vali 31? No, io valgo 35. Allora se tu non sei 31, il 31 se c'è è alla tua sinistra perché è minore e mi sposto di qua. Stesso ragionamento, tu sei il 31? No, io sono il 22 e allora il 31 se c'è è alla tua destra e mi sposto qui e trovo il 31 e mi fermo. Ad ogni passaggio ho escluso automaticamente metà dell'albero che mi rimaneva. Ad ogni passaggio ho dimezzato, in questo caso sono contento perché è un albero completo quindi perfettamente bilanciato, ho dimezzato i candidati possibili. E questo fa sì che io insieme di quanti sono questi elementi, 1 più 2, 3 più 4, 7 più 8, 15 elementi, sia riuscito a trovare un elemento, il 31, in soli 4 passaggi. Che è il massimo perché la profondità di questo albero è 4, se io ad ogni vertice faccio una scelta e questa scelta è incontrovertibile, non dovrò mai fare backtracking per dire ma no, forse non è di qui, allora devo cercare l'altra parte. No, non devo mai cercare l'altra parte. Se questo è un BST, se l'ho costruito mantenendo la proprietà di ricerca, la proprietà di regolamento del BST, una volta che ho esplorato un vertice non mi serve andare a esplorare, perché sono andato, diciamo, verso destra, non mi serve per nulla andare a esplorare il ramo sinistra. Le scelte che faccio sono scelte definitive. La stessa cosa vale anche se c'è alcun elemento che non c'è, ad esempio il 6. Se cercassi il 6, avrò tutto lo stesso procedimento. Dalla radice 18, 18 non è 6, 6 è minore, quindi vado a sinistra, 12 non è 6, ma 6 è minore, quindi vado a sinistra, 4, 4 non è 6, ma 6 è maggiore, quindi vado a destra, 7 non è 6, ma 6 è minore, quindi vado a sinistra, o meglio, andrei a sinistra se ci fosse una sinistra, ma visto che non c'è, l'elemento 6 ho dimostrato che non è nel grafo, perché se ci fosse sarebbe appeso al ramo sinistra di 7. Quindi anche qua, con 4 passaggi, sono riuscito a scoprire che in un insieme di 15 elementi, l'elemento che cercavo io non c'era. Ovviamente queste operazioni le posso fare anche all'interno di un vettore ordinato di numeri, pescando a metà e poi andando a dividere le metà e le metà della metà, eccetera, eccetera, il vettore. Ma in un vettore purtroppo i numeri sono statici, nel senso che ciascuno ha la propria posizione, se devo aggiungere o togliere gli elementi, queste sono operazioni costose dal punto di vista algoritmico, mentre invece nel caso degli alberi sono molto più semplici, perché l'albero, essendo una struttura dati a grafo, dinamica, posso aggiungere e togliere dei vertici anche a metà del grafo, e mentre se invece dovesse aggiungere qualche cosa all'interno di un vettore dovrei spostare tutti gli elementi, quindi magari sono veloce a trovare la posizione, ma poi ho un tempo odn per spostare gli elementi e fare spazio. Allora, l'esempio che abbiamo fatto ci convince che la ricerca in un albero binario bilanciato ha una complessità che è dell'ordine del numero di livelli, h sarebbe l'altezza dell'albero e noi sappiamo che se l'albero è bilanciato il numero di livelli sarà ovviamente dell'ordine del logaritmo del numero di elementi, logaritmo in base 2 perché è un albero binario. Quindi questo significa che se io ho n elementi e questi sono organizzati sotto forno di BST, le operazioni di ricerca, ma poi anche quelle di inserimento e cancellazione, se andassimo a studiarcele, avrebbero tutte una complessità che è circa dell'ordine di logaritmo n. Quindi rispetto alla ricerca di un vettore che mi dà una complessità pari a ODN, ho avuto un guadagno decisamente notevole. Per carità, non è come una tabella di hash dove ho un tempo di accesso che è tipicamente OD1, costante, che è dominato dal tempo di calcolo della funzione di hash. Però non tutto può essere messo in una tabella di hash perché alcune strutture dati, diciamo così, non sono facilmente hashable, ma soprattutto se io metto i dati in una tabella di hash, perdo completamente il loro ordinamento. Vengono rimescolati assolutamente dalla funzione di hash, anzi quella è la loro forza. Mentre invece qua io riesco a mantenere l'ordine dal più piccolo al più grande e facendo un attraversamento, una visita in preordine essenzialmente, riesco a stampare i valori dal più piccolo al più grande. Quindi riesco anche a mantenerli non solamente memorizzati, ma anche ordinati, che è un di più. Quindi se noi andiamo a confrontare le complessità delle strutture dati principali con cui abbiamo giocato finora, queste prime due colonne ne avevamo parlato settimane fa quando parlavamo della complessità delle strutture dati più semplici, cioè delle liste, e vedevamo che la complessità essenzialmente per alcune operazioni era costante, per altre operazioni invece aveva una complessità lineare o di n. La tabella di hash è una tabella di hash abbastanza strana per cui l'aggiunta, la rimozione e la ricerca di un elemento, se lo conosco, ha un tempo di esecuzione costante, cioè il calcolo della funzione di hash, ma ci sono molte altre operazioni che non sono possibili, né la ricerca lineare, né la stampa ordinata, né l'ordinamento degli elementi stesso, quindi non c'è una posizione dell'elemento stesso. Ecco, in un BST che cosa abbiamo? Abbiamo che le operazioni tendono ad avere tutte una complessità, quelle fattibili chiaramente, una complessità pari al logaritmo del numero di elementi e quindi pari all'altezza dell'albero stesso. Rispetto a una lista ho un tempo di inserimento maggiore, perché qui ho un O di 1 e qui ho un O di log n, ma la differenza è che una lista mi aggiunge l'elemento in fondo, mentre qua io lo aggiungo in un punto ordinato. Se io dovessi mettere in ordine un array o una lista ho bisogno di un algoritmo che nel migliore dei casi sarà O di n log n per mantenere gli elementi in ordine, mentre invece qua l'inserisco già direttamente ordinati. Non abbiamo visto l'argomento di inserimento ma fidatevi che essenzialmente significa ricercare l'elemento, ricercare la posizione in cui mettere l'elemento se ci fosse e aggiungerlo esattamente lì. La rimozione normalmente ha un costo lineare nelle liste, è un costo logaritmico negli alberi di ricerca, la ricerca di un elemento ha un costo lineare perché mi devo scandire la lista, soprattutto se l'elemento non c'è, perché devo andare fino in fondo per essere sicuro che non ci sia, mentre in un albero ha un costo, che è logaritmico. Quindi questa struttura dati è una struttura dati che ci permette di mantenere, e questi due attributi ci serviranno tra un secondo, ci permette di mantenere un insieme di dati ordinato e quindi posso sempre prendere il più piccolo, distinguere dal più piccolo dal più grande e soprattutto estrarre gli elementi o visitarli in ordine crescente e mi permette di farlo in modo efficiente, cioè con operazioni che hanno un costo sublineare logaritmico, meno di un log n. Allora questa struttura dati ci serve soprattutto, quindi noi non useremo quasi mai in questo corso direttamente gli alberi, ma tenderemo a usarli all'interno di strutture più complesse che ci serviranno per implementare delle cosiddette code prioritarie. Quindi questo concetto di cosa prioritaria, che poi è alla base del funzionamento delle simulazioni, è una struttura dati a sé stante, ma di fatto viene costruita combinando strutture dati che già conosciamo. Vediamo di che cosa si tratta. Innanzitutto il concetto di coda. Una coda esattamente è un elenco ordinato di elementi. Il tipo più semplice di coda è una coda come direte first in first out, cioè una coda in cui il primo ad uscire è colui che era arrivato per primo. Allora questo si può implementare normalmente come una lista, perché io basta che prendo una lista qualsiasi, aggiungo in coda ed estraggo in testa, oppure aggiungo in testa ed estraggo in coda. Questo viene molto meglio se uso una linked list, perché in un R list estrarre l'elemento di testa significa copiare tutti gli altri, quindi mi ha un costo ODN. Oppure potrei avere una coda last in first out, cioè l'ultimo che è arrivato è il primo ad uscire. Di fatto una pila di elementi, quell'ultimo che impilo in alto sarà il primo che riesco a prendere. Questi sono tipi di code in cui l'ordine con cui, diciamo che supportano due operazioni di base, inserire ed estrarre, e le chiamo code perché l'ordine di estrazione dipende dall'ordine di arrivo, dipende solamente dall'ordine di arrivo. Una coda FIFO first in first out è la coda del macellaio, in cui ti danno i numeretti e quindi chi è arrivato per prima passerà per prima e uscirà per primo. Questo tipo di code il cui ordine di uscita dipende solo dall'ordine di arrivo sono gestibili normalmente con una lista e quindi non c'è bisogno di nessun lavoro particolare. Mentre invece ci sono dei casi in cui l'ordine di uscita non deve essere uguale all'ordine di arrivo ma deve dipendere da altri criteri. Pensiamo ad esempio alla gestione delle presenze all'interno della sala di aspetto di un pronto soccorso. Allora c'è scritto a grandi lettere in tutti i pronti soccorsi che l'ordine di chiamata non è l'ordine di arrivo, ma i pazienti vengono chiamati per gravità ed urgenza, per criteri di gravità ed urgenza. Quindi tu magari sei arrivato otto ore fa, sei lì che aspetti, ma arriva una persona che è molto più grave di te e un minuto dopo viene già chiamato. Quindi siete tutti in coda, siete tutti aspettando, siete arrivati in tempi diversi, ma nel momento in cui siete arrivati vi è stata assegnata una priorità, un'importanza e verrete chiamati sulla base dell'ordine di importanza. Allora in questo caso la struttura dati per eseguire questa operazione non può essere una lista. Perché? Perché non è facile, se io ho degli elementi nella lista immaginiamo che man mano che arrivano i pazienti in questo pronto soccorso vengono messi in fondo la lista. E poi quando devo chiamare il prossimo paziente devo andare a cercare tra tutti gli elementi della lista qual è quello che è la priorità massima. Quindi devo fare una ricerca lineare nella lista per cercare il suo massimo. E purtroppo il calcolo del massimo è un'operazione ODN. E allora potete pensare di mantenere ordinata questa lista. Se io la lista ce l'ho ordinata, allora ogni volta che devo chiamare qualcuno chiamerò il primo perché è quello che avrà la priorità maggiore. Quindi l'estrazione a questo punto diventa un'operazione a tempo costante. Il problema è che l'inserimento non lo è più. Perché se io devo mantenere la lista ordinata quando mi arriva un nuovo paziente non devo semplicemente aggiungerlo in fondo ma devo aggiungerlo nella posizione giusta in mezzo agli altri pazienti dopo quelli che hanno priorità maggiore di lui e prima di quelli che hanno priorità inferiore a lui. E quindi dovendo cercare la posizione e spostare l'altra metà del vettore ho una complessità che è lineare nel numero di elementi in coda. Posso anche usare a questo punto un albero di ricerca binario. Abbiamo appena visto i BST dove le operazioni di inserimento, rimezione, calcolo del massimo e calcolo del minimo sono tutte operazioni che hanno un tempo di esecuzione logaritmico che tutto sommato è sicuramente meglio rispetto a una lista. I problemi del BST sono due e per cui non verrà usata esattamente questa struttura dati nelle code prioritarie. Sono due perché uno l'albero per essere efficiente perché il numero di livelli sia pari log n deve essere bilanciato e quando gli elementi mi arrivano in un ordine che non so controllare e sto continuamente aggiungendo e togliendo e aggiungendo e togliendo e soprattutto sto sempre togliendo il minimo e quello che ha da pesantire il ramo sinistro e quindi quest'albero tenderà a diventare non bilanciato e quindi di tanto in tanto occorrerà fare l'operazione in più per ribilanciarlo, cosa che si può fare ma dal punto di vista complessità rimaniamo sempre nel log n ma sono estremamente macchinosi questi algoritmi, è facilissimo sbagliare nell'implementazione. Quindi questo è il primo motivo per cui si può usare un albero binario di ricerca per memorizzare una cosa prioritaria ma di solito non lo si fa. L'altro motivo è perché sappiamo fare di meglio. Ci sono strutture dati in cui l'inserimento è log n ma l'estrazione è o di 1, si fa in tempo costante e quindi si riesce ad essere ancora più efficienti di un BST per questo scopo specifico, cioè gestire una cosa prioritaria. La cosa particolare di una cosa prioritaria è che a me non interessa sapere chi è il quinto o chi è l'ultimo a dover passare ma mi interessa sapere chi è il prossimo. Quindi una struttura dati, mi serve una struttura di struttura dati ottimizzata per dirmi chi è il massimo di un insieme di elementi, chi ha la priorità più alta o il minimo, dipende un po' come lo intendiamo ovviamente, non la priorità. Quindi definisco il massimo o definisco il minimo e la struttura dati mi darà in modo estremamente efficiente il massimo di questa struttura dati e mi manterrà questa informazione aggiornata anche se inserisco nuovi elementi e ogni nuovo elemento avrà una complessità o di log n per essere inserito. Quindi una struttura dati che mi dia l'inserimento in tempo log n e l'estrazione del minimo in tempo costante. Questo è ciò che stiamo cercando di fare. E lo stiamo facendo esplorando un'uova parte della nostra, diciamo così, albero delle collection, in particolare l'interfaccia che si chiama coda, queue, quindi abbiamo il set, abbiamo le liste, abbiamo anche le code. Ovviamente noi sappiamo che una coda si può anche implementare attraverso una lista. Sappiamo che non è molto efficiente ma sicuramente si può fare. Quindi vedete che la classe linked list può essere un'implementazione di list, quindi ha tutti i metodi delle liste, così come l'abbiamo sempre usata, ma può essere anche un'implementazione di coda. Nessuno sanno di mento ovviamente userebbe un'arrlist per fare da coda perché gli tocca ricopiare gli elementi avanti e indietro sarebbe estremamente inefficiente. Ma una lista linkata tutto sommato si può fare. Oppure ci sono, soprattutto quando la coda è una coda ordinata, tipo FIFO o LIFO. Mentre invece quando vogliamo gestire delle code prioritarie allora serviranno classi separate. E' quello su cui ci concentreremo oggi tra un attimo. Per quanto riguarda l'interfaccia coda, quindi quello che abbiamo lassù, essenzialmente è un'interfaccia molto semplice che permette di aggiungere un elemento, estrarre un elemento e dare un'occhiata a qual è il prossimo elemento che estrarrei. Quindi l'operazione di add aggiunge un nuovo elemento alla coda. Poi ci sono alcune strutture dati che aggiungono in testa, alcune che aggiungono in coda. Dipende se sono FIFO o LIFO e quindi ogni classe poi infatti lo implementa in modo diverso. Oppure l'operazione di remove che estrae un elemento togliendolo dall'altro opposto. Quindi se è una FIFO estrarrà quello che è arrivato da più tempo, se è una LIFO estrarrà quello che è arrivato da meno tempo, se è una coda prioritaria estrarrà quello che ha il valore minimo di un campo priorità in caso di ordinamento. Oppure esiste un'operazione di controllo, di andare a esaminare, a curiosare qual è il prossimo elemento. Quindi di fatto la differenza tra element e remove è semplicemente data dal fatto che remove ti restituisce l'elemento e lo cancella anche. Mentre element ti restituisce l'elemento ma lo lascia nella coda e quindi mi permette di sbirciare quale sarebbe il prossimo elemento senza però toglierlo. Per alcune di queste tre operazioni fondamentali, quindi aggiungo, estraggo e esamino, in Java ne esistono implementate due varianti che hanno nomi diversi che sono ovviamente difficili da ricordare perché non hanno una grossa logica. E la vera differenza tra questi metodi è che nel caso in cui l'operazione non sia possibile, add, remove ed element genera un'eccezione. In realtà add è sempre possibile, remove ed element non sono possibili ovviamente se la struttura dati ha zero elementi. È già vuota quindi non posso restare il primo. Mentre invece offer, poll e pick sono dei metodi che quando non c'è l'elemento desiderato ritornano un valore speciale, tipicamente ritornano null per dire che non c'è l'elemento. Quindi se noi stiamo gestendo una situazione in cui è possibile che l'elemento sia mancante, quindi che la coda sia vuota, tendiamo a usare questi perché così andiamo a controllare il valore di ritorno. Se invece dovessimo lavorare in un caso in cui la coda non deve mai essere vuota e quindi vogliamo farci generare un'eccezione nel caso in cui stiamo cercando di distrarre qualcosa da una coda che in realtà poi si rivela essere vuota, allora preferiamo questa versione del remove che nel caso in cui qualcosa vada storto mi genera un'eccezione da gestire. Di classi che implementano l'interfaccia coda, q, ce ne sono parecchie. Questo è un elenco delle classi che sono già previste nella libreria standard che implementano questa interfaccia. Come facciamo a orientarci in queste? Beh ci sono alcune che sono tutti tipi di code di tipo sincrono. Sono code di tipo sincrono, queste linked sono implementate sotto forma di lista, tra tutte operazioni bloccanti nel senso che se io sto cercando di distrarre un elemento e quell'elemento non c'è, non esiste allora il metodo può aspettare che l'elemento diventi presente nel caso in cui magari ci sia un altro thread che sia in grado di distrarlo. Quindi queste code sono anche in grado di far comunicare tra diversi thread delle serie di messaggi che vengono inseriti in una parte ed estrati dall'altra e se non c'è nulla si attende. Noi veramente in questo corso non faremo programmazione concorrente e quindi le differenze, le fini differenze tra questi insiemi di classi non ci interessano. Ci sono invece due classi che sono interessanti perché hanno un nome un po' strano, un nome che si chiama DEC DEC è una contrazione di double-ended queue, cioè una coda a due inizi, a due teste un DEC è una coda in cui posso inserire sia in testa che in coda ed estrarre sia dalla testa che dalla coda quindi è una struttura di dati più versatile che funziona contemporaneamente come LIFO e come FIFO quindi ho due estremità, io posso inserire da un'estremità ed estrarre da quella stessa estremità e quindi ho un LIFO oppure inserire da un'estremità ed estrarre dall'estremità opposta e allora implemento una FIFO che però viaggia in un senso oppure nel senso inverso quindi posso sia aggiungere che togliere sia a destra che a sinistra chiaramente avrà dei metodi in più ovviamente il DEC per riuscire a distinguere questi due lati quando vado ad inserire quindi nel caso in cui mi servisse una struttura di dati bidirezionale posso usare una DEC basata su un array o basata su una lista, su una leaked list esistono anche delle strutture di dati particolari per esempio questa è con Current, è stata pensata apposta per ThreadSafe, quindi per far comunicare a loro vari Thread ma come dicevo noi in questo non entriamo e poi c'è la classe che ci interessa di più che è la cosiddetta Priority Queue la coda prioritaria qui dice che è una coda prioritaria unbounded quindi non ha un numero massimo di elementi più elementi aggiungo ovviamente più la coda cresce e offre questi metodi allora ovviamente implementa queue quindi implementerà sicuramente l'operatore di add che aggiunge un nuovo elemento e lo aggiunge sulla base dell'ordinamento che abbiamo definito per il tipo di elementi quindi ovviamente questi elementi devono essere ordinabili devono essere comparable in qualche modo poi abbiamo il metodo pick and remove che ci permettono di quindi analizzare qual è il prossimo elemento il pick mi dice qual è il prossimo elemento oppure remove restituisce il prossimo elemento e predispone la coda per restituirmi quello successivo quindi cancella quell'elemento della coda quindi predisponendomi per il prossimo minimo volendo abbiamo un iteratore che mi restituisce gli elementi in ordine e allora poi abbiamo il clear size che ovviamente svuotano la coda e mi dicono quanti elementi contiene quindi la cosa interessante è che la coda prioritaria la uso aggiungendo elementi add li aggiungo in qualunque ordine l'aggiunta della coda fa sì che l'elemento venga inserito nella posizione giusta giusta in base alla sua priorità e poi quando farò il remove li vado a estrarre nell'ordine giusto dicevamo che la struttura dati che viene usata in una coda prioritaria non è un albero di ricerca ma è una struttura nuova che si chiama HIP un HIP di priorità un HIP è una parola strana che in italiano si tradurrebbe come un mucchio, una catasta cos'è un HIP? un HIP di fatto è un albero binario che è parzialmente ordinato quindi è un criterio di ordinamento più lasco più morbido rispetto al al BST di fatto in un HIP è semplicemente richiesto che ogni nodo sia maggiore dei suoi due figli quindi scusate sia minore dei suoi due figli quindi 10 è minore sia di 20 che di 80 80 è minore sia di 85 che di 90 20 è minore sia di 40 che di 60 40 è minore sia di 50 che di 99 65 è maggiore di 60 quindi 60 è minore questo non è un BST se stiamo a vedere perché ad esempio vediamo che il figlio sinistro di 60 non è minore di 60 bensì è maggiore così come i due figli di 20 sono entrambi maggiori di 20 quindi questa non è una struttura di dati totalmente ordinata però se io penso alla proprietà che ho richiesto che ogni nodo sia maggiore di suoi due figli continuo a dire al contrario che ogni nodo sia minore di suoi due figli allora per definizione la radice è il minimo è più piccolo di tutti perché la radice è minore di suoi due figli ciascuno di due figli è minore di due figli successivi ancora e così via poi può esserci una grossa difformità perché l'80 ce l'abbiamo qui il 99 ce l'abbiamo dall'altra parte ma sono tutti sotto il 10 in un certo senso quindi è facilissimo trovare il minimo perché è sempre la radice se abbiamo questo criterio di ordinamento parziale mantenuto è un ordinamento che se io scendo lungo qualunque percorso dalla radice verso le foglie trovo numeri sempre crescenti 10, 20, 60, 65 10, 80, 85 non va bene come albero di ricerca perché se io dovessi cercare se c'è il 50 arrivo qui al 10 vedo 20, 80 non so da che parte andare il 50 è sicuramente maggiore di 10 quindi devo andare in basso ma in basso a sinistra e in basso a destra non c'è una regola il 50 è qui ma potrebbe benissimo essere qui no perdonci qui no perché il filo è già l'80 però potrebbe benissimo essere qua tra il 10 e l'80 quindi non è una struttura dati che va bene per ricercare un generico elemento però è una struttura dati molto efficiente per restituirmi il minimo che è la radice stessa le code prioritarie lavorano su struttura dati di questo genere tra l'altro qui l'abbiamo disegnato come albero ma se notate è un albero completo in cui tutti i livelli sono pieni tranne l'ultimo e abbiamo già velocemente notato che gli alberi completi si possono memorizzare semplicemente in un array senza dover necessariamente spostare gli elementi e questo è ciò che fanno le implementazioni della struttura dati AIP che ci permettono appunto di avere una memorizzazione molto efficiente molto compatta perché alla fine sono in un array ma questo array lo pensiamo come AIP e quindi andiamo a pescare gli elementi nel modo giusto ovviamente quando io implemento una cosa prioritaria gli elementi che ci metto dentro devono essere ordinabili e quindi o implementano l'interfaccia comparable oppure quando creo la probability queue la coda prioritaria dovrò fornire un comparatore su cui questa coda lavorerà ecco questo comparable o questo comparatore è il criterio di priorità della coda la coda lavora estraendo ogni volta l'elemento che ha il valore minimo rispetto al criterio di ordinamento che abbiamo specificato quindi rispetto al comparator che abbiamo specificato all'atto della creazione o rispetto all'ordinamento naturale degli elementi quindi è un concetto di priorità in cui i numeri più piccoli vincono rispetto ai numeri più grandi se non ci piace dovremmo implementarci un algoritmo di confronto ovviamente che lavori al contrario quindi la coda estraerà sempre l'elemento col valore minimo rispetto al suo ordinamento naturale oppure rispetto al comparatore che vi passiamo quindi se implementiamo delle priorità vuol dire che la priorità 0 è più importante della 1 la 1 è più importante della 2 e così via se inseriamo dei dati in cui il comparatore il coordinamento naturale sia il tempo come faremo nella prossima lezione con le simulazioni allora vuol dire che estrarremo ogni volta l'elemento che ha la marcatura temporale più vicina più recente più piccola quindi estrarò per prima gli elementi che rappresentano un tempo precedente e solo dopo gli elementi che rappresentano un tempo successivo e quindi li estraggo in ordine di tempo essenzialmente anche se li ho inseriti in un ordine diciamo così casuale quindi questa è la struttura dati con cui lavoreremo noi ci ricordiamo che questa struttura dati è basata su un NIP per gestire l'efficienza degli elementi anche se abbiamo avuto solamente un piccolo assadio di cosa vuol dire avere un NIP e non abbiamo visto quali sono i meccanismi di funzionamento semplicemente abbiamo visto che ha un tempo di esecuzione che è sublineare logaritmi quindi è sicuramente più efficiente per questo lavoro rispetto a un altro tipo di struttura che potrebbero essere le liste ecco tra l'altro visto che la settimana scorsa parlavamo dei cammini nei grafi quando avevamo detto l'algomi di Dijkstra se vi ricordate avevamo detto che ad ogni iterazione deve trovare il vertice che in quel momento ha il valore minimo della distanza dall'origine e avevamo detto ci vuole un algoritmo furbo efficiente per riuscire a trovare a gestire questa lista di vertici sapendo trovare ogni volta rapidamente quale sia il minimo ecco qui abbiamo subito fatto il matrimonio combinato tra l'algomi di Dijkstra che ha bisogno di trovare rapidamente il minimo di un insieme di elementi che via via aggiorna e la coda prioritaria e infatti questo log V che compare nell'algomi di Dijkstra è esattamente la complessità della coda prioritaria basata su IP e quindi l'algomi di Dijkstra è stato possibile è quello che è più efficiente degli altri proprio perché Dijkstra ha scoperto in parte l'ha anche inventato lui l'IP come struttura dati che è molto focalizzata sul estrarre il minimo sul trovare il minimo ma da questo punto di vista è anche molto più efficiente degli altri quindi è riuscito a passare da un V quadro a un V log V che noi ovviamente apprezziamo perché è più efficiente rispetto agli altri algoritmi e quindi grazie proprio a questa struttura dati esistono esiste l'algoritmo di Dijkstra altrimenti non avrebbe senso non sarebbe più efficiente rispetto ai V quadro di cui ne abbiamo già visti altri di due o tre algoritmi che avrebbero quel tipo di complessità quindi avere intanto le strutture dati magari ottimizzate perché con un IP non faccio altre cose non stampo gli elementi in ordine non posso trovare se un elemento esiste o se un elemento è mancante non è fatta per quello quella struttura dati è fatta per una cosa sola ma quella cosa la fa in modo più efficiente rispetto ad altre strutture dati questo se vogliamo risponde sempre alla domanda che si fa ma quale struttura dati è migliore dipende dalle operazioni che ci devo fare in questi contesti come l'album di Dice dove due operazioni sono ti aggiungo un vertice qualunque oppure dimmi qual è il minimo questo è perfetto nelle simulazioni avremo esattamente lo stesso tipo di esigenza e quindi anche lì useremo una coda prioritaria sia per ragioni funzionali cioè perché ci serve comodamente stare al minimo sia per ragioni prestazionali perché sapendo che va bene chiaramente non ci poniamo problemi anche se avessimo un numero molto elevato di elementi da gestire quindi con questa nuova diciamo così conoscenza un po' degli alberi come principio generale di funzionamento e soprattutto delle acorde prioritarie con questi metodi per raggiungere ed estrarre elementi nella prossima lezione introdurremo quindi l'algoramento nuovo delle simulazioni ed eventi grazie 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 grazie